Sono Stefano Capurso, sono Presidente, Amministratore e Delegato di Dievole. Il vino che ho portato si chiama 900, è il vino che noi consideriamo più rappresentativo di Dievole per due motivi principali. Uno storico, non è un caso che si chiami 900, infatti la prima annata di questo vino fu la 1990, esattamente 900 anni dalla fondazione dell'azienda o almeno da quando si hanno, come dire, riferimenti storici che parlano di Dievole. Il secondo invece è una valenza prettamente produttiva che si rifà a un vino che non è da singolo vigneto ma è un vino che è una cuvée delle migliori uve dei migliori vigneti e quindi diciamo che rappresenta la vera essenza di Dievole.